Mew è il Pokémon più importante di tutti. È quello che ha reso il brand forte anche ai giorni nostri. Esagero, ma senza di lui credo che sarebbe stato impossibile arrivare a festeggiare quasi dieci generazioni. Sì, è assolutamente una mia opinione, ci mancherebbe altro, ma posso assicurarvi che si basa su informazioni ufficiali che possono essere condivise anche da chi ha vissuto quegli anni. Inizialmente le vendite non decollavano, ma la scoperta di Mew come Pokémon segreto creò interesse nei videogiocatori. Parola del papà, Satoshi Tashiri. Ma facciamo un tuffo nel passato, fino all'inizio degli anni 2000. Erano i primi giorni in cui in vita mia utilizzavo un computer. Ricordo ancora il rumore paradisiaco della mia connessione a 56k e l'assurda lentezza per stabilire il collegamento. L'unico motivo per cui utilizzavo internet a quei tempi era trovare informazioni su Pokémon. Non si trattava di guide complete, ma di piccoli aiuti per completare al meglio il gioco. E in quegli anni era facilissimo imbattersi all'interno di leggende metropolitane. Quante cassate lette sui vari forum. Un milione oggi di lì. Ma anche quello era lore e anche quello è stato il motore di diffusione della Pokémon Mania in Italia. A proposito, ho già parlato di Pokémon Mania in un video qui sul canale. Te lo lascio nelle schede. E ogni storia tramandata riguardava lui, Mew, il Pokémon numero 151. Prima parlavo dell'importanza delle leggende metropolitane per la diffusione di Pokémon. È assurdo pensare che quello fosse effettivamente il piano di Morimoto. No, non l'ex calciatore del Catania. Shigechi Morimoto è un programmatore che lavorò lo sviluppo di Pokémon rosso e verde e appare anche come allenatore sfidabile in alcuni titoli della serie principale. E possiamo considerarlo, a tutti gli effetti, il papà di Mew. Morimoto stesso spiegò anni dopo quello che accade con il Pokémon numero 151. Venne inserito nelle cartucce di gioco quasi per scherzo, per errore. Mew venne inserito in rosso e verde praticamente due settimane prima del lancio ufficiale del gioco sul mercato. Una volta rimosse le funzioni di debug si liberarono all'incirca 300 byte. E proprio quella memoria venne utilizzata per dar vita al Pokémon nuova specie. Ma a dire il vero, Mew venne aggiunto praticamente soltanto per gioco. Nella trama principale infatti venne spiegato come Mewtwo esistesse dopo la clonazione dell'antenato di tutti i Pokémon. Ma la volontà era quella di nasconderlo al grande pubblico. Quell'inserimento frettoroso però generò vari glitch all'interno delle cartucce. E alcuni giocatori riuscirono a scoprire l'esistenza del Pokémon misterioso. Proprio per questo nel 1996 su Coro Coro venne annunciata la diffusione del Pokémon leggendario. Ragazzi 80.000 richieste di partecipazione che nel 1996 erano veramente tanta roba. E soltanto 20 fortunati vincitori furono in grado di ricevere Mew attraverso un collegamento con il cavo Game Link. Mew stesso è stato il carburante necessario per generare curiosità ed interesse. E poi diciamocelo tranquillamente. Se esisteva davvero qualcosa di nascosto, ufficializzato poi da Nintendo, allora i programmatori dovevano per forza di cose aver nascosto anche qualcos'altro. E proprio i glitch potevano essere la chiave per andare a dissotterrare quei segreti mai ufficializzati. Oggi conosciamo vita, morte e miracoli del codice di rosso, blu, giallo e verde. Conosciamo a memoria gli errori perché esistono come manipolarli e come vengono generati. Siamo a conoscenza del fatto che non esiste nessun TOGEPI accanto e che non esiste nemmeno un Mew Tree. Non è possibile far tornare la motonave Anna e nemmeno diventare capopalestra. Però ora sappiamo quelle cose perché noi ragazzi degli anni 90 abbiamo giocato ore e ore e ore facendo debunking di quelle informazioni che oggi possiamo etichettare come fake news. Però adesso è necessario fare un piccolo passo in avanti. Almeno fino al 2002. Il mondo soltanto pochi mesi prima era stato sconvolto dall'attentato alle torre gemelle. Io avevo dieci anni e all'epoca il mio interesse unico era soltanto Pokémon. E dato che questo non è un video del canale principale, no, non ci focalizzeremo sulle lacrime di Ronaldo il Brasiliano, ma andremo a prendere comunque maggio 2002 come target principale di discussione. E ora immaginatevi un bambino di dieci anni che aveva provato di tutto, da usare forza sul camioncino della motonave Anna fino a girovagare per ore sull'isola dei numeri. E immaginatevi quello stesso bambino di dieci anni che sullo schermo del suo computer degli anni 2000 legge l'articolo con il seguente titolo. Scoperto il modo di catturare Mew senza codici su Pokémon rosso, blu e giallo in italiano. Era come invitare un'oca a bere. E quindi dopo aver letto l'ennesimo post su internet una cosa avevi da fare, impugnare la tua console e andare a verificare di persona. Non avevi nulla da perdere solo il tempo e tanto da guadagnare, ovviamente in gioco. E sostanzialmente tutte le leggende metropolitane iniziavano nella stessa maniera. Dovevi eseguire una serie di azioni, a volte in maniera ripetuta, per ottenere in cambio un Pokémon rarissimo e impossibile da trovare in maniera differente. E proprio in quel maggio 2002, sul web per la primissima volta, veniva spiegato l'intero procedimento esatto su come catturare Mew senza trucchi su ogni cartuccia esistente di prima generazione. Sono abbastanza convinto, ma vado a memoria, che questa notizia in Italia arrivò a Rubino e Zaffero probabilmente già distribuiti. Però non ne sono convinto, non ne sono sicuro. Non ho trovato riferimenti temporali sul web. Eppure, su Bulbapedia sono riuscito addirittura a trovare il post originale, datato 31 maggio 2002, che ha tutti gli effetti il primo tutorial esistente su internet in cui si parla del glitch di Mew. Grazie ad una time machine siamo in grado di accedere alla pagina e leggere il sito jesseworld.com, sezione codici. Una raccolta di testimonianze su internet dove i fatti potevano essere smentiti o confermati da altri utenti. Esempio, come catturare un secondo Mewtwo senza codici o come ottenere oggetti illimitati grazie a Missy New. Ed è proprio qui che il 31 maggio 2022 l'utente Nintendo scrive questa cosa. Il vero codice di Mew. Questo è quello serio. Per poi descrivere perfettamente il glitch, evitare di battere il bullo con lo slowpoke a nord di Celestopoli e rischiatutto tra Lavandonia e Zafferanopoli. Nintendo inoltre ci fa sapere che Mew sarà di livello 7, che il codice non è falso, che funziona perfettamente su rosso, blu e giallo e che in caso di fallimento è colpa del videogiocatore reo di aver sbagliato qualche procedimento. Ora, noi oggi sappiamo che questo è tutto vero, ma 22 anni fa era facilissimo etichettare questo procedimento come falso. Perché mai sarebbe dovuto apparire un Mew di livello 7 dopo aver battuto uno slowpoke a caso? E infatti l'utente Pokémon Luva risponde a Nintendo dicendo che il codice non funziona e che è cascato nell'ennesima leggenda metropolitana che sta pensando di acquistare un GameShark per ottenere Mew in maniera illegale ma sicura. Assurdo pensare come in un mondo di leggende metropolitane il primo utente ad aver postato precisamente tutto quello che serve per arrivare a catturare Mew abbia ricevuto un solo commento e che questo commento gli abbia pure detto che cazzo stai dicendo, hai detto una minchiata. Lo ammetto, mi domando chi sia effettivamente quell'utente dei nomi Nintendo e non stiamo parlando di un nickname a caso, per nulla. Mi chiedo come sia venuto a conoscenza del glitch del procedimento esatto per ottenere Mew. E cioè esistono alcuni allenatori ad ampio raggio e sono quelli che quando ti vedono nella mappa ti danno il tempo anche di premere Start. In quel momento avremo la possibilità di utilizzare volo o teletrasporto per fuggire dalla lotta. Il gioco crederà ancora di essere impegnato con l'allenatore e quindi ci impedirà di utilizzare il menu Start e una volta terminata una qualsiasi lotta terminerà anche questo glitch del tasto Start e quindi saremo in grado di svolgere le nostre azioni normalissime. Però ritornati sullo stesso percorso dove eravamo scappati dalla natura la prima volta apparirà un Pokémon selvatico. E a seconda dell'ultimo Pokémon incontrato nella lotta che ci ha sbloccato il tutto, comparirà un Pokémon selvatico di un determinato tipo. Per incontrare Mew nella fattispecie sarà necessario sfidare un Pokémon con la statistica speciale pari a 21, esattamente come lo Slowpoke del bullo. Quindi ogni Pokémon può essere generato a nostro piacimento, basta semplicemente indicare la statistica speciale corrispondente. Ma Nintendo nel 2002 spiegava esattamente lo stesso procedimento per catturare Mew. Cioè non può trattarsi di una coincidenza, non potrebbe anche aver scoperto questo glitch, però potrebbe aver incontrato un altro allenatore e quindi generato un altro Pokémon. Perché proprio quello Slowpoke? Perché proprio quel bullo che tra l'altro potresti aver già battuto durante la tua avventura e quindi potresti non essere mai arrivato a dover fare quel glitch con quel determinato allenatore? Eppure nel 2002 lo sapeva. Chi era Nintendo? Come era in grado di conoscere tutte queste informazioni? Morimoto, il papà di Mew, era a conoscenza dei glitch che avrebbero potuto generarlo e proprio per questo nel 96 Creole Contest. È una risposta che probabilmente non avremo mai a una domanda che, devo dire la verità, mi tormenta. Il Luca bambino che lesse questo glitch si precipitò a provare. E ricordo ancora l'emozione di trovarmi davanti quel Pokémon che avevo sempre solo potuto ricevere clonato a livello 100 passato da chissà chi. Questo era un Mew selvatico a livello 7 che potevo catturare, allenare e gestire come mi pareva a me. E una volta catturato mi precipitai a salvare il gioco, a ritirarlo e a iniziare ad insegnare diverse mosse. Fu una giornata davvero bellissima perché dopo tante ore buttate via nel cercare di catturare Mew nei modi più strani, finalmente c'ero riuscito davvero. Era veramente coronare il sogno dell'infanzia. Quella non era più una leggenda metropolitana, era appena diventata la verità. E ricordo di aver informato anche i miei amici che nella prima battuta si rivelarono dubbiosi. Allora io dissi, vabbè, datemi il Game Boy, ci provo io, vi faccio il procedimento, ma o il bullo o le rischiatute erano già stati battuti. Non si era stato in grado di replicare il glitch e quindi era stato etichettato tutto come una panzana, una baggianata, anche se era tutto vero. Però questo è il modo di capire se è una cosa vera o falsa. Da me funziona no, allora è falsa. Gli altri funzionano, fa lo stesso. Non ho sbagliato io e è falso. E attenzione perché il glitch di Mew è presente e attuabile anche tutt'oggi su Virtual Console e una delle caratteristiche principali di tutti i giochi Pokémon sin da rosso e blu era avere dei Pokémon esclusivi per cartuccia. Come per esempio Growlit che puoi catturare in Pokémon rosso e in blu no, stessa cosa Pulpix in blu sì e rosso no, oppure Scyther e Pinsir. Ed è proprio per questo che con il glitch di Mew sono riuscito ad ottenere anche quei Pokémon che solitamente non puoi catturare o che si evolvono tramite uno scambio come a Hunter in Gengar. E allora mi sono detto perché non sfruttare questo errore di programmazione per completare per la prima volta in assoluto tutto il Pokédex in Pokémon rosso eppure esagerare creando un Live Index su Pokémon Home. Ebbene, l'ho fatto. Ora però vado a braccio, lascio a parte tutte le informazioni che mi sono letto per arrivare fino a questo punto. Perché questo è un video vecchio. Ha più di un anno. È più di un anno che per la prima volta avevo detto qui sul canale che avevo intenzione di portarvi un video in cui vi parlavo del Live Index, del Pokédex e soprattutto di Tauros. Perché in una prima battuta mi ero ripromesso una cosa. Di comunque arrivare a catturare i Pokémon che puoi trovare nell'erba alta semplicemente catturandoli. E quelli che non posso ottenere come per esempio, non lo so, un altro starter. O per esempio, Itmollis ho scelto Itmongchan. Tramite la generazione con il glitch di Mew. E sono arrivato bene o male a fare queste cose quasi completamente. Perché devo dirvi la verità, durante la storia per dire avevo catturato Dragonite o Gengar con il glitch di Mew. Pokémon che non avrei potuto ottenere. Gengar perché si scambia. O Dragonite perché dovevo allenarlo semplicemente troppo ed era una rottura di Cocones. Quindi su alcune cose ho barato. Sì, sono sincero, sono onesto. Però su tutti i Pokémon della zona Safari volevo essere bravo. E cioè catturarli semplicemente durante il gioco Safari. Sono stato letteralmente bloccato un mese sull'ultimo Pokémon che mi rimaneva. E cioè Taurus. Arrivavo alla zona Safari, lo trovavo, lanciavo le ball, usciva, scappava. E quindi da un anno a questa parte avevo completamente smesso questa cosa. Però oggi con glitch di Mew voglio insieme a voi catturare Taurus. Ok, mi arrendo e basta. Mi arrendo. Fa lo stesso. Lo catturiamo con glitch di Mew e completiamo il Pokédex. Sono 150 su 151. Voglio arrivare a 151. E allora che cosa ho fatto? Poco prima di registrare questo video ho preso la mia virtual console di Pokémon rosso e ho iniziato a fare un gioco Safari. Volevo semplicemente mostrarvi che effettivamente ero arrivato a 150 su 151. Volevo una piccola clip in cui appareva Taurus dove scappava e poi andarlo a generare con il glitch di Mew. Durante il gioco Safari ho trovato Censi, ho trovato Saiter che sono scappati. Censi non sono neanche riuscito a farlo entrare nella ball. Saiter invece è scappato immediatamente ma non riuscivo a trovare Taurus. Fino a quando è comparso Taurus? Eccolo qui. Vi metto qui la clip. Gli lancio letteralmente una Safari Ball per scherzo, per farlo scappare perché volevo farvi vedere che era difficilissimo prendere Taurus e sono riuscito a catturare Taurus. E io ero abbastanza incredulo. Ero abbastanza incredulo perché ho detto cavolo io ci ho perso dei mesi l'anno scorso, poi ho smesso definitivamente e ci riprovo la prima volta e riesco a catturare Taurus. Ragazzi che cosa vi devo dire? Questo video è diventata una roba strana. Siamo partiti da Mew, siamo partiti dai glitch e poi arrivare al Pokédex e poi il Safari Ball e poi abbiamo preso Taurus. La prima Safari Ball incredibile, assurdo ma ci siamo riusciti. E questo mi dà ancora più soddisfazione, devo dirvi la verità. E allora sono corso letteralmente ad Azzurropoli, sono entrato alla Game Freak, mi sono fatto consegnare per la prima volta il mio diploma ed ecco qui che abbiamo completato ufficialmente il Pokédex in Pokémon rosso per Virtual Console. Tutto questo tramite grazie al glitch di Mew e una buona bosta di fortuna, diciamo così, per non essere scorrini nel catturare Taurus. Capite che il glitch che ha portato la diffusione massima di questo Pokémon anche 20 anni e passa dopo mi ha permesso di completare il Pokédex per la prima volta in vita mia? Sta roba è meravigliosa. Ed ecco qui il mio Live Index di Pokémon Home, non è ancora completato, alcuni devo passare ancora, anche tipo Slowpoke, Dodrio, devo fare evolvere gli starter che avevo passato per poi riniziare il gioco, eccetera eccetera, e devo passarmi ancora a Mew e Mewtwo, Mew che è il protagonista di questo video, ce l'ho ancora all'interno della mia versione di Pokémon rosso. Ma soprattutto ecco Taurus, il nostro bello maccione catturato proprio pochi minuti fa, fresco fresco appena pescato, e abbiamo completato il Pokédex con lui. Signori, questo video è un po' caotico, ne sono convinto. Partiamo da un principio, da un Pokémon che è stato aggiunto per errore e arriviamo fino a questo. Però capite che è tutto collegato? Capite che è tutta passione? Capite che quelle idee, quelle leggende metropolitane, quegli errori di programmazione sono vivi ancora oggi e sono la base di quello che è diventato Pokémon? Io sono felicissimo che tutto questo possa essere ancora raccontato e che possa ancora stupirmi una semplice cartuccia in bianco e nero con una grafica terrificante, ma della quale sono terribilmente innamorato. E se questo stesso canale esiste è perché la nostalgia che mi dà Pokémon rosso non me l'ha dà davvero nessun'altra cosa al mondo. Fatemi sapere le vostre impressioni su Mew, sui glitch, sul Pokédex, fatemi sapere se l'avete mai completato anche voi in Pokémon rosso e soprattutto fatemi sapere se avete mai catturato Taurus, perché questa è la prima volta che catturo Taurus in vita mia in Pokémon rosso. E in questo video mi sono reso conto di aver catturato più Mew piuttosto che Taurus all'interno della prima generazione. E tutto questo è semplicemente magico e magnifico. Adesso però, dopo quasi 30 anni, qualcuno mi deve spiegare che cazzo ci faceva lì quel camioncino, perché minchia ce l'hanno messo. Ciao! Grazie a tutti.